Ci colleghiamo ora con l'ospedale Bambino Gesù di Roma e diamo il benvenuto al professor Carlo Efisio Marras, professore in linea. Buongiorno. Buongiorno a lei professore. Allora, innanzitutto complimenti perché oggi dobbiamo parlare di questa nuova procedura robotica che serve per correggere i disturbi del movimento. È stata eseguita per la prima volta in Europa l'ospedale romano, l'ospedale Bambino Gesù. Ce ne parli? Dunque, lo scorso mese, ad aprile, abbiamo eseguito questo intervento con una tecnica robotica. È un intervento che prevede il posizionamento di elettrodi in specifiche aree cerebrali per il controllo di uno particolare disturbo del movimento che si chiama distonia. Ecco, che cos'è la distonia? Così mettiamo subito le cose in chiaro per far capire ai nostri radioascoltatori. C'è una definizione di distonia, ma che comunque credo che in questo momento non chiarisca quello che disturba il movimento, ma si tratta di una patologia in cui il problema è rappresentato da movimenti involontari. Ovvero, chi ha questo problema non riesce a controllare dei movimenti che comunque si generano indipendentemente dal paziente. Per cui, questi pazienti possono avere dei movimenti volontari delle braccia o delle gambe o del tronco, possono avere problemi nel parlare in relazione a questa difficoltà motoria, o ancora possono avere delle posizioni fisse di queste parti del corpo che impediscono i normali svolgimenti delle attività quotidiane. Per cui, questi pazienti spesso sono pazienti che hanno un normale, forse più intelligente, ma sono normali dal punto di vista cognitivo e quindi naturalmente sono estremamente penalizzati da questo movimento. Per cui, persone normali con un disturbo, se si può dire, anormale. Assolutamente, ma è una patologia molto diffusa? Allora, la distonia rientra nelle queste patologie rare. Ah, meno male. Nel senso che, diciamo, le statistiche che documentano un alto numero di casi portano comunque un mille casi ogni milione di abitanti. Per cui, sono, diciamo, rare come condizioni. E' chiaro. E quindi diventano, sono delle difficoltà motorie, ecco, nei bambini. E come si può intervenire? Perché esiste una cura? No, esiste però un intervento chirurgico addirittura. Allora, esiste sia una cura, infatti esiste un trattamento medico ben codificato, che talvolta è efficace, ma nei pazienti in cui la terapia non è efficace e hanno un tipo di disturbo nel movimento ben definito, infatti è molto importante la valutazione di questa prechirurgica di questi pazienti, allora questi sono i pazienti candidati all'intervento chirurgico di cui stiamo parlando. È un intervento in cui si posizionano due elettrodi, uno per lato, a livello di un nucleo specifico che si chiama palido interno. Questi elettrodi sono connessi a un pacemaker, quindi a un sistema di generazione di impulsi, che riesce a controllare il problema alla base della malattia. Per cui questa è un tipo di procedura che si fa già da ormai 15 anni, quella della stimolazione cerebrale profonda. Ciò che è innovativo e che in qualche modo ha importanza nello scenario medico è il fatto che per la prima volta è stato fatto su un bambino con una metodica robotica, che in qualche modo sta trasformando tutte le procedure chirurgiche, compresa quella neurochirurgica appunto. È chiaro che è molto più sicura, ha tantissimi vantaggi rispetto a un intervento chirurgico tradizionale. Allora, sicuramente la precisione definisce anche la sicurezza dell'intervento, per cui tanto più si è precisi, tanto più sicuro è il trattamento, questo è ovvio. Quello che la tecnica robotica permette è quello di modificare in maniera radicale quello che è l'approccio chirurgico ai problemi medici, di interesse chirurgico. Per cui non voglio dire che le procedure finora utilizzate non sono precise, questo assolutamente no, ma la tecnica robotica ha in qualche modo stravolto quello che è il modo in cui si affronta la chirurgia. Per cui l'originalità di questa procedura, che è una procedura assolutamente precisa, è quello proprio di aprire uno scenario che è moderno, assolutamente nuovo. Certo, certo. E quindi che cosa viene messo all'interno del cervello del bambino? Sono degli elettrodi che sono utilizzati anche per la cura di altre patologie, come la malattia di Parkinson, che appunto sono connessi a questi generatori di impulsi che vengono mantenuti in sede a livello sottocutaneo. Tutto il sistema è comunque sottocute, per cui non ci sono delle parti esposte. Certo. E in questo modo la stimolazione continua permetterà il controllo dei sintomi. Tra l'altro la tecnologia sta facendo dei grossi passi avanti, in quanto questi sistemi sono ricaricabili, ovvero sono dei sistemi che possono essere telemetricamente ricaricati e quindi non c'è bisogno di modificare, di sostituire la batteria, così chiamata, cosa che prima si faceva di routine. Insomma, nel tempo stiamo con il miglioramento della tecnologia e delle tecniche chirurgiche che va agilieando dei risultati sicuramente un tempo non pensabili. E' chiaro, quindi una volta installati non è che non bisogna andare ancora una volta, perché se lei mi dice che appunto il cambio della batteria, così lo chiamiamo, può avvenire in maniera E, quindi può restare lì per quanto tempo? Beh, l'effetto di questa stimolazione c'è nel momento in cui la stimolazione viene mantenuta, per cui se si spegne lo stimolatore i sintomi ricompaiono. Quindi è una procedura reversibile in quanto appunto permette, dico, la stimolazione e di controllare i sintomi. Per cui il tempo è per sempre. Questa è la considerazione. Ecco, e quindi tutti i bambini che soffrono di distonia possono essere trattati con questa metodologia? Prima le dicevo che la valutazione prechirurgica è fondamentale. Il paziente viene analizzato, studiato e il caso è discusso con tutte le specialità che afferiscono al problema, quindi il neuropsichiatra, il neurologo, il chirurgo, insomma tutto un gruppo di lavoro. Affrontato proprio da un'equipe di lavoro, certo. Esattamente, e definisce l'indicazione al trattamento chirurgico, per cui non tutti i bambini sono candidati all'intervento, ma alcuni certamente sì. E tra questi, i pazienti candidati sono quelli che hanno la cosiddetta forma genetica DYT1 positivo, che è un tipo di gene modificato che si osserva nelle distonia e che risponde benissimo alla stimolazione cerebrale profonda, così si chiama questa metodica. Bene, bene, bene. Quindi complimenti anche perché l'ospedale Bambino Gesù è un centro di riferimento nazionale, no? Grazie. Sia per la diagnosi e la cura di questo tipo di disturbi, che appunto è la distonia proprio nei bambini. Quindi che cosa ci dobbiamo aspettare nel prossimo futuro? Beh, ci aspettiamo la possibilità di non operare più i bambini. Ah, che mi sembra ottimo. Sicuramente tutto questo passa per lo sviluppo di tecnologie. E ci auguriamo che si scoprono anche dei farmaci che comunque possano permettere di risolvere questo problema. Ma conosciamo già quanti numeri, quanti bambini sono stati trattati con questo tipo di... Allora, in Italia i bambini sottoposti negli ultimi dieci anni sono circa un centinaio. I numeri sono sicuramente contenuti. Questo anche in relazione alla rarità della distonia. Uno dei motivi per cui i pazienti non sono trattati così frequentemente dipende anche dal fatto che non tutti i centri di neurologia pediatrica conoscono questa soluzione. O si fidano di questa soluzione. Per cui la diffusione di questi risultati è molto importante anche per permettere a bambini, fino a questo momento riconosciti come non chirurgici, di poterlo essere. È chiaro. Molto bene. Professor Marras, io veramente la ringrazio per questa sua testimonianza che ha aperto un po' i nostri orizzonti di fronte a una metodica assolutamente innovativa della quale non eravamo certamente al corrente. Grazie ancora e complimenti. Buongiorno. Ringraziamo il professor Carlo Efisio Marras, responsabile della neurochirurgia dell'ospedale Bambino Gesù di Roma.